L'associazionismo come punto fondamentale da cui partire per sviluppare un progetto turistico su cammini. Questo è il tema affrontato con il workshop Il Turismo dei Cammini, organizzato dalla DMO Terra di Cammini, ospitato dal comune di Pignataro in Teramna. Affrontiamo il tema dei cammini, ma lo affrontiamo con una metodologia che noi chiamiamo di formazione di intervento. Quindi il primo step è quello della condivisione con gli attori che lavorano sui cammini, perché saranno loro che ci suggeriranno come ottimizzare la nostra offerta turistica e come ottimizzare anche i percorsi, le attrezzature, i luoghi di accoglienza affinché il turismo trovi poi sul territorio un'accoglienza adeguata. È una grande opportunità perché significa valorizzare quelle che sono le bellezze naturali, paesaggistiche, ma anche archeologiche e sociali, culturali del nostro territorio. Un territorio che cerca di fare sempre più rete su temi importanti è sicuramente quello del turismo lento, lo è. Il workshop ha consentito di condividere alcune soluzioni da sviluppare nei prossimi mesi. In quest'ottica l'associazionismo gioca un ruolo chiave. Sono importantissime per la promozione del turismo e quindi rappresenta sicuramente i cammini, una delle prossime possibilità di sviluppo dei nostri territori. Noi viviamo in una terra molto ricca di tutto, di belle cose, di bella natura, si mangia bene, abbiamo il turismo religioso, abbiamo tantissimi ingredienti che le associazioni devono mettere in campo e soprattutto risorse per lo sviluppo del nostro territorio. Un incontro fondamentale per ragionare sulle straordinarie potenzialità in chiave turistica del territorio. È una grande opportunità che dobbiamo assolutamente cogliere grazie alla DMO, questa nuova organizzazione su cui stiamo lavorando in maniera importante ed è particolarmente importante in questo momento perché, lo dico con scaramanzia, visto che il tessuto industriale sembra un po' cedere in questo periodo, noi dobbiamo prepararci a qualunque altra soluzione che possa far sì che questo territorio diventi attrattivo. Per tante persone che vengono da Roma, tra Roma e Napoli siamo quindi, siamo assolutamente collegati benissimo e abbiamo la possibilità veramente di far sì che in questo territorio ci siano veramente utilizzati questi cammini, queste cose.